Utilizzando la spettrometria di massa ad alta risoluzione, io e il mio team siamo riusciti a separare e identificare le migliaia di molecole diverse che compongono il petrolio. La conoscenza della composizione del greggio è molto importante per migliorare i processi di raffinazione, ma è anche utile per individuare le sostanze potenzialmente inquinanti che si possono formare durante l'estrazione del petrolio. Questa tecnologia è applicabile a qualsiasi miscela complessa e può essere utilizzata in situazioni diverse, ad esempio per individuare contaminanti nell'ambiente. Citando un caso reale di inquinamento di un fiume, questa tecnologia ha permesso di comprendere che la contaminazione proveniva naturalmente dal suolo e non era dovuta alla perdita di petroliera. Concordo con lui. Credo che la cosa meno sensata che si possa fare con gli idrocarburi sia bruciarli, specialmente adesso che sappiamo che il greggio è composto da oltre 50.000 molecole, alcune delle quali potrebbero avere delle applicazioni interessanti. Separare e studiare queste molecole è importante, soprattutto adesso che il petrolio più pregiato sta finendo e rimane quello più denso e ricco di catrame e bitumi.